Valentina Romis, man of the match oggi in questa partita molto molto difficile per l'Arts Perugia che ha sfatato un tabù contro Orvieto. Sì, sicuramente dopo le due sconfitte e la data di ritorno ci meritavamo questa vittoria perché abbiamo giocato innanzitutto bene ed è stata una voglia proprio di riscatto e di rivincita. Abbiamo giocato bene, a tratti siamo un po' calate, però diciamo che abbiamo recuperato la concentrazione e questo è stato determinante per la vittoria. Orvieto che comunque nonostante qualche errore di troppo vi ha tenuto sempre sulla corda, specialmente nel quarto set dopo aver vinto il terzo vi ha recuperato un margine che sembrava quasi ormai definitivo e vi ha fatto sentire il fiato sul collo. Sì, anche la partita di ritorno, la seconda partita appunto ha recuperato un sacco di punti, eravamo molto sopra e siamo stati insomma recuperati e questo ci ha servito come l'esperienza per non rifarlo, quindi abbiamo reagito sicuramente bene ad un calo di concentrazione che ci può stare, però siamo stati bravi a reagire insieme soprattutto e a recuperare insomma nei momenti di difficoltà. Che significato ha la vittoria in gara 1 per l'Arts Perugia? La vittoria in gara 1 significa che adesso andiamo orvieto con la voglia delle terminazioni che abbiamo avuto adesso e quindi sarà sarà, ce la metteremo tutta e niente, appunto unite che è fondamentale, l'unione fa la forza e questo lo dimostreremo in campo.